Parto subito insieme con voi per questo viaggio. Dopo il viaggio di Ulisse, di Enea, il gran tour di Goethe, oggi discutiamo di un viaggio molto particolare, perché è un viaggio che, evento pressoché unico nella storia della scienza, coincide con una rivoluzione scientifica. È un viaggio di scoperta, è un viaggio di esplorazione ed è un viaggio di un ragazzo. Io comincio da qui, perché inizio fra l'altro con un ricordo di un evento romano molto importante, la mostra che si fece nel 2009 qui a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dedicata ad Armi, in occasione del bicentenario della nascita. Nel manifesto vedete comparire questa icona dell'immaginario collettivo, lui vecchio, con la barba un po' malenconico, appoggiato a un tronco di eucalipto e che dice, insomma, tutto l'immaginario di Darwin che noi abbiamo in mente è questo, di un uomo vecchio, pensoso, mite, preoccupato. Io vi faccio vedere oggi un altro Darwin, invece un ragazzino, letteralmente un ragazzo, 20, 22 anni. È il ragazzo protagonista di quell'episodio che sentivate all'inizio di Paolo, un ragazzo curioso, un ragazzo di buona famiglia, un ragazzo che ha appena intrapreso una carriera scolastica e universitaria, diciamo, zoppicante. Il padre è un ricco medico molto facoltoso, dintorno di Londra, lo manda a Edimburgo, nella Atene del Nord, come veniva chiamata a quel tempo, per studiare medicina, ma il tentativo fallisce miseramente perché il giovane Charles Darwin non sopporta la visione del sangue e quando gli fanno vedere un'operazione a quel tempo senza anestesia, peraltro su un ragazzino, capisce che non è il suo mestiere, praticamente sviene, dice no, assolutamente medicina non fa per me. Torna a Londra, torna dal padre, il quale già un po' innervosito decide di mandarlo a studiare a Cambridge e a fare teologia naturale, perché a quel tempo un ragazzo con interessi diciamo naturalistici come quelli che Darwin cominciava a mostrare, veniva mandato a studiare teologia naturale, perché la natura a quel tempo era intesa come il grande dominio nel quale si osservavano le prove dirette della creazione, l'argomento del disegno, che è un po' lo sfondo degli studi di questo ragazzo. Nel racconto di questa mattina vorrei farvi fare insieme, facciamo insieme il viaggio di Darwin naturalmente, però vorrei condividere con voi due aspetti di questa storia molto spesso tralasciati, due scoop, due news. La prima è che i viaggi di Darwin sono stati due, non uno soltanto, due viaggi, durati tutti e due all'incirca 5 anni, il primo è il viaggio geografico, la circunnavigazione del globo, questo ragazzo appunto che parte con il famoso brigantino di sua maestà, Beagle nel 1831, il giorno dopo Santo Stefano, quindi alla fine dell'anno, dopo una serie di tentativi falliti di partenza dovuti al maltempo e poi tornerà nell'ottobre del 36, quindi dura quasi 5 anni, un lunghissimo viaggio in cui fanno il giro del mondo, partono verso il Sud America e poi tornano dall'oceano indiano, però c'è un secondo viaggio, il che non si racconta mai, che è il viaggio che inizia subito dopo il ritorno ed è un viaggio tutto mentale, è un travaglio intellettuale, è un viaggio drammatico, è un viaggio anche quello durato 5 anni, fino al 1842 ed è un viaggio che termina con una scelta radicale, quella del silenzio, è un viaggio che termina con la decisione di tenere completamente segrete tutte le idee venute fuori da questo viaggio. La seconda news che voglio condividere con voi è questa, questo è un viaggio che finisce con un delitto, letteralmente, nel senso che Darwin dice di essere stato il colpevole di un murder, cioè di un assassinio e quindi dovremmo vedere insieme chi è l'assassinato, in cosa consiste questo giallo, perché finirò il mio racconto proprio senza però svelarvi fino in fondo il colpevole di questo delitto. Allora, quello che stiamo per fare adesso, tra l'altro un riferimento che mi aveva fatto venire in mente Paolo nella sua introduzione, questo è un viaggio ottocentesco quindi, siamo nella prima metà dell'Ottocento ed è una coincidenza interessante, è un romanzo di formazione, letteralmente, come i grandi romanzi di formazione dell'Ottocento, perché la storia che andiamo a raccontare adesso è la storia di un giovane aspirante naturalista che inizia il viaggio con una certa visione del mondo, diciamo di tipo quasi fissista, quasi tradizionale, anche se vi farò vedere fra poco che aveva molti dubbi e che già prima di partire si cominciava già a fare molte domande, aveva degli indizi, diciamo, però erano soltanto vaghi, frammentari, domande aperte, pulci nell'orecchio potremmo dire. Inizia questo ragazzo questo viaggio e poi come in un romanzo di formazione gli eventi, le contingenze della storia, gli incontri, le osservazioni, le deviazioni della storia lo fanno tornare da questo viaggio con una visione del mondo completamente diversa, come nei romanzi di formazione, quindi a me piace questa cosa che in fondo la teoria dell'evoluzione nasce per mare, nasce in mezzo a un viaggio, nasce in mezzo a una navigazione, caso unico nella scienza, però non del tutto inaspettato per questo periodo dell'Ottocento in cui questi esploratori andavano in giro per il mondo a scoprire, tutto sommato, la diversità delle forme di vita animali, di piante e umane nel globo e torna con una visione del mondo completamente diversa. Allora, due parole ancora sull'inizio di questo viaggio perché è interessante, Paolo prima dell'introduzione faceva riferimento a questo, la stessa partenza del viaggio di Darwin è dettata dalla contingenza, da una certa casualità, lui non doveva partire, parte perché una serie di congiunture favorevoli lo portano a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, lui studia a Cambridge, è un grande collezionista di coleotteri e di altri animali, non si distingue particolarmente per gli studi, ha appena finito quello che adesso sarebbe l'esame, la tesina del triennio, diciamo, delle nostre università con un voto di sufficienza piena ma niente di che, il padre è abbastanza sconsolato, Darwin fa sapere al padre che gli piacerebbe tanto fare un viaggio ai tropici per osservare la biodiversità, il padre gli dice non se ne parla neanche perché già non hai combinato quasi niente fino adesso, figurati se ti mando anche in giro in viaggio, studia, laureati che poi farai il parroco di campagna perché questo è il destino al quale Darwin era portato dal padre, poi però succede che viene appunto offerto a quel John Henslow che veniva citato prima, che era uno dei suoi professori a Cambridge, grande botanico dell'epoca, di partire. Henslow non può partire e cerca di mandare un suo allievo importante che però non può partire perché ha appena avuto un figlio. Darwin era la terza ipotesi, quindi parte soltanto perché i primi due non sono partiti, alla fine Henslow non ha altre chance, dice ma c'è questo studente così volenteroso che ha così tanta voglia di partire e dice senti vuoi andare tu, vuoi accompagnare tu il capitano Robert Fitzroy che è il capitano, anche lui giovanissimo di questo brigantino di sua maestà che è in partenza alla fine del 1831. Darwin ovviamente riceve questa proposta appassionatamente, siamo nell'agosto del 31, corre subito a casa dal padre e dice guarda mi hanno offerto di partire con il Beagle che parte prima della fine dell'anno. A questo punto il padre gli risponde ovviamente che non se ne parla, gli risponde tra l'altro anche per lettera, con una lettera che contiene una delle più sfortunate previsioni mai fatte nella storia della scienza che spesso i padri purtroppo ogni tanto fanno, cioè gli dice guarda secondo me tu non combinerai mai niente nella vita perché veramente guarda finora veramente mi hai dato molte delusioni, per fortuna una predizione abbastanza smentita poi dal resto della storia e cosa succede? Succede che interviene lo zio, cioè il lato materno della famiglia Darwin. La famiglia Darwin è molto particolare perché è un intreccio di due famiglie, un intreccio parentale addirittura perché sapete che Darwin sposa una cugina di primo grado, una Wedgwood, stiamo parlando della grande famiglia dei Wedgwood, quelli delle ceramiche d'Inghilterra, forse qualcuno di voi fortunato ce l'ha a casa, quelle bellissime ceramiche bianche e nere, le ceramiche dei Wedgwood ottocentesche, famiglia ricchissima, la madre di Darwin è una Wedgwood e la moglie di Darwin sarà una Wedgwood e interviene quello che poi diventerà suo suorciolo e dice guarda, parla con il padre, erano molto amici, dice senti lo so che sei molto perplesso però lascia partire sto ragazzo perché fino adesso vedi che sta facendo un po' fatica in università, secondo me se fa un bel viaggio in giro per il mondo, guarda un po' il mondo, diventa più smaliziato, apre gli occhi, vedrai che poi torna più concreto e avrai soddisfazioni, se vuoi pago io tutti i costi del viaggio, però secondo me devi mandarlo, fallo partire e il padre convinto, soltanto da questo suo amico, molto influente, su cui decide alla fine, volente o nolente, di farlo partire. Darwin a questo punto va nel porto di Davenport, Plymouth, dove poi partirà il Bigel e succede un altro evento contingente interessante perché a questo punto è il momento della presentazione col capitano, Fitzroy. Fitzroy è un personaggio molto interessante, adesso non c'è tempo per parlare, ma solo un minuto voglio raccontarvi perché a me piacciono molto i cattivi della storia, quelli che poi alla fine finiscono per essere rappresentati come i cattivi, ma come recitano una nota canzone, poi così cattivi non erano. Fitzroy è uno di questi personaggi, il cattivo della storia perché poi tutti lo abbiamo rappresentato in questo viaggio come il capitano bizzoso, aristocratico, conservatore, bigotto che litiga con Darwin per tutto il viaggio e questo è vero, in effetti succede questo. Fra le varie scomodità del viaggio di Darwin ci sono anche i litigi con il capitano Fitzroy. Fitzroy chi sta cercando? Non sta cercando, come si dice spesso, un naturalista di bordo, non sta cercando uno scienziato che vada con lui, sta cercando un uomo di compagnia, in senso buono, cioè sta cercando una persona di alto livello di lignaggio, diciamo, anche se Darwin non è un aristocratico, una persona che possa pagarsi interamente il viaggio e che non sia sottoposto direttamente alla sua giurisdizione severa del capitano, una persona che gli faccia compagnia durante il viaggio, perché Fitzroy è ossessionato dalle solitudini dei viaggi, Fitzroy era stato sul Beagle già nel viaggio precedente e aveva assistito al terribile e tremendo suicidio del capitano precedente del Beagle che a causa delle lunghissime solitudini di questi viaggi non ce l'aveva fatta e si era suicidato. Fitzroy vivrà per tutta la vita anche lui questa paura della solitudine del viaggio e vuole con sé qualcuno con cui discutere, con cui parlare, con cui confrontarsi e pensate che poi la storia di Fitzroy è così drammatica che Fitzroy tra l'altro subisce questo dramma di questo suo capitano che si suicida, nella sua famiglia c'erano stati dei suicidi e Fitzroy si convince che c'è una qualche tara ereditaria nella sua famiglia che li porta ad essere predisposti al suicidio, come morirà Fitzroy, l'avete già capito? Tanti anni dopo, nel 1865 si suicida, si suicida esattamente come si erano suicidati tutti i suoi parenti precedenti, ha avverato la profezia, quindi una storia molto triste, molto particolare. Fitzroy è stato, è bene ricordarlo, un grande scienziato, un grande tecnologo, è stato il primo a inventare le previsioni del tempo sul time in Inghilterra, ha inventato dei barometri e degli altri strumenti per la navigazione molto importanti, ancora oggi la radio dei naviganti inglesi si chiama radio Fitzroy e c'è un'intera parte dell'oceano atlantico per gli inglesi che si chiama zona Fitzroy, quindi per dirgli che è stato comunque una persona di rilievo nella storia della scienza britannica. Cosa succede? Succede che questi due giovanotti, Fitzroy a meno di 30 anni, Darwin a 22, si incontrano nel porto perché a Fitzroy è stato detto guarda che ti portiamo questo, abbiamo trovato chi ti accompagnerà e c'è una bellissima lettera di Fitzroy di quelle settimane per cui lì incontra Darwin, si parlano per un po' e a Fitzroy e Darwin non piace per niente, perché Fitzroy era un seguace della fisiognomica, sapete quella disciplina che a quel tempo si considerava scientifica, per cui tu guardando un po' le gibbosità del cranio, la conformazione della faccia pensavi di poter dedurre il temperamento di una persona e anche qui Fitzroy in un'altra delle predizioni più sfortunate della storia, scrive in una lettera, mi è arrivato sto ragazzo, questo Charles Darwin, ma c'ha un naso tipico di uno che non combinerà mai niente nella vita. E due, diciamo, è il secondo, perché c'ha quel naso lì con quella forma lì che è tipico di uno che insomma è indolente, è un naso da indolenza. Altra diciamo, predizione abbondantemente smentita. Alla fine ci sono un po' di colloqui tra i due, Fitzroy in assenza di alternative, questo per dirvi come è poco eroica tutta questa storia, prende questo Charles Darwin con sé durante il viaggio. Se ne pentirà maramente, questo è un altro elemento interessante, perché poi Fitzroy vorrebbe, come dire, dialogare pacificamente con Darwin, ma le cose cominciano a mettersi male abbastanza rapidamente. Darwin durante tutto il viaggio non esprimerà mai a Fitzroy i suoi dubbi scientifici, se ne guarda bene, se li tiene tutti per sé, comincia a scriverli su dei tacquini che poi rimarranno segreti per, come dicevo prima, più di vent'anni e questo dà un elemento umano molto particolare a questa storia, però poi cosa succede? Che nel 59, un sacco di tempo dopo, Fitzroy è ancora vivo, si suicida sei anni dopo, Fitzroy scoprirà quello che Darwin stava pensando e aveva fatto durante il viaggio fatto con lui e Fitzroy ci rimarrà malissimo, perché pensa, io che faccio parte dell'aristocrazia inglese, della conservazione, che ho sempre pensato che la natura fosse il dominio delle prove dirette della creazione divina, sono diventato complice di questo, l'ho portato in giro io, gli ho fatto vedere io, gli ho fatto raccogliere io tutte queste osservazioni attraverso le quali lui ha distrutto il mio universo, il mio mondo, il mio modo di guardare la natura, quindi si sentirà addirittura in colpa per essere stato complice di questa rivoluzione e queste sono tutte storie che ci dicono qualcosa nell'Ottocento e poi di tutta la difficoltà con la quale ancora oggi noi facciamo fatica a digerire, a metabolizzare la rivoluzione darwiniana. Il viaggio comincia dopo Natale del 31, sostanzialmente si svolge sì come una circunnavigazione del globo, però per farla semplice gran parte del viaggio si concentra in Sud America e il Sud America è il luogo in cui Darwin fa le sue osservazioni più importanti. Scendono lungo l'Atlantico, si fermano a Capoverde, come nelle isole, nell'arcipelago di Capoverde come prima fermata e poi scendono verso il Brasile e costeggiano verso Sud, ma poi anche tornando verso Nord più volte le coste del Sud America occidentale, poi quelle orientali, poi la seconda parte del viaggio, molta parte del viaggio si concentra lungo le coste dell'Argentina di oggi, le isole Falkland, la terra del fuoco, poi passano allo stetto di Magiano, vanno dall'altra parte, salgono su lungo il Cile e arrivano poi alle Galapagos, di cui vi parlerò un po' perché è una tappa ovviamente notissima, ma piena di mitologie che sarebbe bene smontare un pochino insieme e alla fine c'è l'ultima parte noiosissima del viaggio, lo dice Darwin, sto citando Darwin stesso, c'è la traversata del Pacifico, si fermano ad Haiti, arrivano in Nuova Zelanda, ci sono ancora un po' di tappe interessanti in Tasmania, a Sydney, nelle isole Cocos, attraversano l'Oceano Indiano, c'è una tappa molto interessante in Sud Africa, di cui vi parlerò dopo, perché lì Darwin incontra occasionalmente un grandissimo scienziato inglese, un astronomo importante, John Herschel, con il quale avrà un colloquio fatidico, cruciale, molto importante, risalgono di nuovo all'Oceano Atlantico, si fermano ancora una volta a Bahia e poi tornano finalmente, dice Darwin, a casa dopo cinque anni. Il viaggio avrebbe dovuto durare tre anni, due anni e mezzo, in realtà dura il doppio, per una serie di contrattempi. Aspetto interessante che non si ricorda mai, qual era la finalità di questo viaggio? Non certo l'osservazione naturalistica, era una finalità che potremmo quasi definire oggi di spionaggio internazionale, cioè l'obiettivo della Marina Inglese era quella di fare delle mappe molto dettagliate delle coste del Sud America, di indicare dei luoghi in cui mettere, posizionare dei porti di transito e di commercio e controllare quello che stavano facendo gli altri, spagnoli, portoghesi, olandesi. Quindi era un viaggio con una finalità militare, sostanzialmente, indicare le migliori rotte, i migliori posti dove fermarsi e fare delle mappe, mappe molto precise. E in Fitzroy in questo era un campione, era bravissimo, era molto apprezzato dalla Marina d'Inghilterra, lo sarà anche dopo. Fitzroy tra l'altro diventerà poi governatore della Nuova Zelanda, avrà tutta una sua storia molto particolare. Allora, Darwin in parte, dicevo, inizia questo viaggio e un aspetto importante che voglio raccontarvi, dobbiamo pensare naturalmente che prima di Darwin non si sapesse nulla dell'evoluzione stessa, che era una parola che già girava quel tempo, della biodiversità o del fatto che le specie siano imparentate le une con le altre, si sapeva tanto e si sapeva così tanto che già Darwin prima di partire aveva orecchiato molte di queste idee, aveva sentito parlare di un francese, Jean-Baptiste Lamarque, da un suo professore di Edimburgo, Grant si chiamava, e aveva sentito parlare di questo francese che aveva concepito questa idea della trasformazione dei viventi, il fatto che l'ambiente è capace di plasmare gli animali perché gli animali rispondono alle sollecitazioni ambientali, quindi c'era questa idea di un cambiamento delle forme di natura che esisteva, poi legge Buffon, Darwin, Darwin aveva avuto un training di formazione geologica molto importante, questo è bene ricordarlo, tutti noi ricordiamo Darwin come un naturalista, ma Darwin voleva essere ricordato come un geologo, lo dice lui stesso nei Tacquini, io un geologo vi spiego che, quindi lui si definiva un geologo, perché la sua formazione più importante a Cambridge soprattutto con Sedgwick e altri era stata di tipo geologico e la geologia che cosa dà a Darwin? Tantissime cose, tantissime idee molto importanti, la prima è quella del tempo profondo naturalmente, cioè Darwin era perfettamente consapevole che l'età della Terra non poteva rispettare certo la cronologia biblica, che la Terra doveva avere centinaia di migliaia, forse milioni di anni e che in questi milioni di anni la Terra aveva subito molte trasformazioni, perché la superficie terrestre è instabile e durante il viaggio Darwin sperimenterà di persona questo, sperimenterà un terremoto catastrofico a Valdivia, in Cile, proprio personalmente, si salva perché sta dormendo in spiaggia, ma muoiono decine di migliaia di persone a Concepcion, che è la città più vicina, lui va a Concepcion e vede la distruzione prodotto da questo terremoto, ma da grande osservatore si rende anche conto che a causa del terremoto la costa sudamericana si è alzata di mezzo metro, perché passeggiando lungo la costa, lungo la riva si accogge che il giorno dopo il terremoto i mitili, le cozze e i molluschi che ci sono attaccati alle rocce sono saliti di mezzo metro che non corrisponde alle maree, quindi si rende conto che è la terra che si è alzata e comincia a riflettere sul fatto che forse la cordigliera andina così alta è in realtà il frutto di un progressivo innalzamento di un territorio che stava prima sotto il mare e infatti andando poi sui sentieri lungo le Ande trova delle conchiglie fossili a 2-3 mila metri e si interroga sul fatto che come è possibile che degli animali marini si trovino così in alto, tutto questo gli fa capire, gli fa pensare che la superficie terrestre è una dinamica continua, è una continua dinamica di cambiamento e questo è molto importante perché questa instabilità della terra è il grande contesto ecologico nel quale poi lui inserisce la sua teoria dell'evoluzione, perché le specie, gli animali e le piante devono sopravvivere in un contesto instabile, imprevedibile e adattarsi a questo ambiente, non c'è evoluzione senza questo cambiamento, questa vitalità potremmo dire e imprevedibilità della terra, poi osserva eruzioni vulcaniche molto importanti in Sud America e formulerà, è bene ricordarlo soprattutto nella parte finale del viaggio lungo il Pacifico, una teoria sulla formazione degli atolli corallini, una teoria che poi verrà smentita e negata dai suoi contemporanei ma che si rivelerà poi nel Novecento corretta. Quindi Darwin è stato uno dei primi a capire come si formano gli atolli corallini a partire da isole vulcaniche, quindi il meccanismo di abbassamento del terreno e di annalzamento della barriera corallina. Quindi un geologo, la geologia gli dà tantissimo e poi naturalmente c'è anche un'altra figura importante che gli ha dato tante idee di spunti di partenza che è il nonno, cioè il padre del padre, Erasmus Darwin, personaggio interessantissimo, un omone gigantesco, un grande medico anche lui, libertino, illuminista, grande amante della rivoluzione francese e americana, anticlericale, un vero laico spregiudicato che influenzò moltissimo la storia familiare di Darwin e che aveva scritto un libro titolato Zoonomia dove introduceva qualche idea, anzi più che qualche idea, evoluzionistica della trasformazione degli esseri viventi. Erasmus Darwin tra l'altro che è l'ispiratore del libro, del testo Frankenstein di Mary Shelley, quindi storie interessanti di quel periodo. Tutto questo all'ombra di Pelei, cioè all'ombra di William Pell, il padre della teologia naturale, quello che era stato l'autore dei libri di testo a Cambridge e che aveva insegnato a tutti gli studenti di Cambridge che la natura è la prova della creazione divina, l'argomento del disegno di un grande progetto che si esprime proprio negli adattamenti degli animali. Ironia della storia Darwin dorme nella camera del Chris College di Cambridge dove aveva dormito e aveva lavorato William Pell e sarà, e ne è molto orgoglioso quando ci arriva, in realtà sarà l'uomo Darwin che distruggerà la teologia naturale, che porterà al suo superamento. Quindi per farla breve è bene ricordare che quando Darwin parte non è che il mondo fosse immerso nell'oscurità e nell'ignoranza, si sapevano tante cose, giravano tante idee interessanti, soprattutto c'erano grandi naturalisti che avevano fatto delle ottime osservazioni, analitiche, per esempio gli anatomisti di quell'epoca erano fortissimi e conoscevano molto bene le morfologie degli animali. Soltanto che cosa mancava? Mancava un'idea unificante, mancava qualcuno capace, come dirà Darwin poi nei suoi tacquini, di trovare – questa è una citazione sua – trovare una connessione tra fatti sparsi, trovare una connessione tra fatti sparsi. Questa secondo me è una delle definizioni più belle mai date di che cos'è la scoperta scientifica. E spesso non è il trovare qualcosa di nuovo, l'osservare qualcosa di nuovo, ma è trovare quel filo, quella connessione, quella spiegazione tra fatti già osservati da altri, già analizzati da altri. Darwin è stato fortissimo in questa capacità sintetica. È quello che è riuscito a trovare il filo, lo schema sintetico che teneva insieme una grande quantità di fatti che erano già stati osservati prima. Questo è il meccanismo per cui spesso nella scoperta scientifica tutti gli altri poi dicono – caspita, come ho fatto a non vederlo che era lì? Come ho fatto a non vedere che era lì la scoperta scientifica? Eh sì, ma è proprio questo il punto, che a un certo punto c'è qualche scienziato che vede quella connessione che era lì, solo che gli altri non l'hanno vista e che trova una connessione tra fatti sparsi. Tutte le volte che c'è una grande scoperta scientifica, gli altri dicono come ho fatto a non vederlo. Questo è interessante perché fa capire molto di com'è anche la psicologia della scoperta scientifica. Quando Darwin è in giro per il mondo, fa delle buone letture, è un viaggio mentale questo, lo ricordavamo prima, oltre che è un viaggio geografico, anche perché lui si porta i libri giusti e si fa mandare i libri giusti durante il viaggio, legge le narratives, le grandi cronache di un grande viaggiatore come Alexander von Humboldt, ovviamente volendosi ispirare a lui, al suo viaggio in Sud America per esempio lungo le Ande, gli piace tantissimo lo stile di von Humboldt e Darwin avrà una grande soddisfazione poi nella sua vita perché quando poi al ritorno pubblica il famoso diario di un naturalista attorno al mondo, che è una rivisitazione dei testi che lui scrive, delle note di viaggio, Humboldt dirà che è uno dei libri più belli di viaggio mai scritti dopo di lui, quindi avrà il riconoscimento diretto di Humboldt come suo quasi successore. Poi legge Charles Lyle, il padre della geologia moderna inglese, un avvocato, grande scrittore, grande narratore delle cose geologiche che nel 1831, quindi proprio l'anno in cui Darwin parte, inizia a pubblicare un libro fondamentale che sono i principi di geologia e che sono stati un libro ispiratore per Darwin e poi per tutta la vita rimarrà un po' il mentore di Darwin, un po' il suo protettore, il suo maestro, un punto di riferimento diciamo nell'accademia scientifica britannica. Il principio di geologia è un libro importantissimo perché conferma quell'idea che vi dicevo prima, descrive tutte le trasformazioni del globo terraqueo, di tutte le trasformazioni di vulcanesimo, le subsidenze, le modalità con cui si formano le isole, le cantine vulcaniche, tutti gli spostamenti, i movimenti della costa terrestre e Lyle ha una visione di tutti questi cambiamenti che si definisce uniformismo, uniformitarismo, cioè l'idea che per Darwin sarà molto influente, che per spiegare i tempi lunghi della vita della Terra bisogna cercare le cause che ancora oggi sono attive, quindi osservare il presente per capire il passato, perché quello che sta succedendo nel presente è molto lento, è difficile da vedere, ma moltiplicato per tanto tempo ti spiega come si è arrivati fino a qui, quindi l'attualismo, l'idea che lo studio del presente ti permette di capire il passato e Darwin cercherà, lo dirà poi lui stesso, di fare la stessa cosa con la biologia, anziché in geologia, cioè capire come gradualmente nel corso dei tempi lunghi, nel tempo profondo, le specie si sono trasformate nel corso del tempo, quindi la geologia ancora una volta come brodo di cultura della teoria dell'evoluzione. A questo punto lui arriva, dopo le osservazioni geologiche fatte a Capoverde, nell'isola di Santiago, nell'arcipelago, lui fa dei disegni molto interessanti delle conformazioni geologiche, arriva in Sud America, in Sud America succedono tante cose, adesso non c'è tempo per ovviamente analizzarle tutte, ma un primo episodio molto importante avviene già a Rio de Janeiro, lui arriva, sbarca, tenete conto Darwin ha passato due terzi del viaggio a terra, perché odiava, soffriva di mal di mare, quindi immaginatevi la situazione, 5 anni in giro con il Beagle, in giro per il mondo, su un brigantino lungo 27 metri, su cui stavano 64 persone mediamente, lui dormiva in una cabina di un metro e mezzo per un metro, su una maca, insieme con un altro, e soffriva di mal di mare, quindi immaginatevi l'allegria, la felicità di questo viaggio, lui appena poteva scendeva e poi spesso cosa faceva? Si metteva d'accordo, per cui lui scendeva in un certo porto, faceva tutto il tragitto via terra e si faceva poi prendere dal Beagle più a Sud o più a Nord, facevano così, quindi lui stava il più a terra possibile per fare tutte le sue osservazioni. Quando arrivano a Rio de Janeiro, Fitzroy decide, viene invitato, sostanzialmente a fare una visita a cavallo verso l'interno, quindi vanno verso proprio la zona di foresta e la zona delle piantagioni, nelle grandi fazendas di quell'epoca e Darwin assiste per la prima volta a una scena terribile legata alla schiavitù, al fenomeno della schiavitù, perché quando arrivano in una di queste fazendas è il momento in cui, un momento terribile in cui i ragazzini cresciuti nelle famiglie degli schiavi vengono presi separati dai padri e dalle madri e portati da qualche altra parte, quindi quei ragazzini e quelle madri sanno che non si rincontreranno mai più e arrivano, ci sono questi che prendono e strappano dalle mani delle madri questi ragazzini per venderli schiavi a qualcun altro per portarli da qualche parte. Darwin osserva questa scena straziante e dice a Fitzroy, ma quale bestia può concepire qualcosa del genere, quale bestia, quale animale può essere così perverso da concepire, da strappare i figli dalle madri? E Fitzroy rimane molto stupito da questa affermazione e risponde, ma no, la schiavitù fa parte dell'ordine naturale delle cose, questo è come lui era stato educato, quello che lui pensava, la schiavitù fa parte dell'ordine naturale delle cose e Darwin gli risponde, se questo è l'ordine naturale delle cose, allora facciamo in modo di andare oltre questo ordine naturale delle cose, la schiavitù è una aberrazione inconcepibile, inaccettabile, litigano per giorni, su questo poi non si parlano per settimane a causa di questo litigio, torneranno a parlarsi verso l'Argentina, quindi immaginatevi sempre l'allegria di questo viaggio in questo brigantino con questi rapporti diciamo con il capitano, questo è un litigio però importante, formativo per Darwin, perché poi Darwin per tutto il resto della sua esistenza, tornato poi dal viaggio, fino all'ultimi giorni della sua vita è stato un finanziatore, letteralmente, un grandissimo sostenitore di tutte le campagne per l'abolizione della schiavitù, ha finanziato i soldi suoi della sua famiglia e della famiglia lato Wedgwood, erano molto più ricchi, le campagne per esempio per l'abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, nel Nord America, Darwin è stato un attivista contro la schiavitù per tutta la vita, lui e tutte le sue sorelle e sua moglie, tutta la famiglia è stata molto impegnata in questa battaglia per abolire la schiavitù e festeggiano nel corso dell'Ottocento la caduta delle regole della schiavitù per esempio nelle Indie occidentali, nelle Indie orientali e poi con la guerra civile e tutta la storia nel Nord America, quindi è un episodio molto importante questo. Scendono poi più a sud e qui c'è un punto in quale voglio fermarmi un minuto perché è importante, perché se capiamo questo capiamo tanto di che cosa vuole dire la teoria dell'evoluzione nel suo nocciolo. Che tipo di osservazioni fa Darwin durante il viaggio? Osservazioni molto diversificate tra di loro, un segreto dello sguardo di Darwin è stato quello di essere pressoché del tutto disinteressato ai confini disciplinari, non interessava nulla lui di fare il lavoro del botanico, dello zoologo, dello geologo, non importa, lui raccoglieva tutto ciò che riteneva interessante in modo molto analitico e anche disordinato perché poi lui non ha una teoria in mente, però raccoglie piante, animali, animali viventi, animali fossili, fa osservazioni geologiche, fa osservazioni geografiche importantissime, ecologiche, climatiche, insomma mette insieme tutto l'armamentario delle osservazioni naturalistiche in modo interdisciplinare, ha uno sguardo molto sintetico, non è uno sguardo specialistico, questo è molto importante, il specialismo nelle scienze naturali verrà molto tempo dopo, oggi non sarebbe più possibile fare una cosa del genere, ma a quel tempo sì, perché non c'erano ancora gli steccati disciplinari che conosciamo oggi, ma principalmente dentro tutto questo insieme di prove, le due categorie di prove più importanti riguardano il tempo e lo spazio, perché il tempo e lo spazio? Il tempo perché Darwin osserva una serie di fenomeni durante il viaggio riguardanti il tempo profondo e fin qui ce lo aspettiamo, si accorge come già si sapeva da molto tempo che le specie si sono estinte nel corso del tempo, dissotterra lui stesso con il suo martelletto da geologo i resti di mastodonti mammiferi estintisi in Sud America, quindi percepisce chiaramente che negli strati profondi esistono le vestigia, i reperti di resti di animali che oggi non ci sono più, quindi l'estinzione, però si accorge anche che esistono forme intermedie e analogie tra le specie estinte e le specie attuali, per esempio si accorge che il liptodonte, quel mammifero corazzato, ha un sacco di caratteristiche molto simili a quelle degli armadilli che vivono adesso, quando lui li osserva in Sud America, divisi in varie specie tra l'altro, quindi non osserva solo l'estinzione, osserva anche il fatto che quelli che vivono oggi sembrano essere imparentati, avere dei legami con quelli che si sono estinti nel passato e quindi comincia a formulare questa idea di un cambiamento nel corso del tempo e soprattutto di una parentela, di una ramificazione, che questa è l'idea più importante, legge tra l'altro le tesi di un geologo italiano che è Gian Battista Brocchi, che aveva formulato questa idea che le specie sono come degli individui che nascono, crescono, cambiano e muoiono e gli piace questa idea, dice sì, in effetti le specie potrebbero anche loro essere delle entità che nascono, evolvono e muoiono, quindi vedete che comincia a riflettere su queste idee e fin qua ce lo aspettiamo, le prove paleontologiche, dirette e discendente del fatto che lui è un geologo. Quello che è però ancora più importante sono le prove riguardanti lo spazio geografico, perché io poi ho indagato insieme con gli specialisti inglesi, il momento in cui Darwin capisce l'evoluzione, il momento aurorale in cui lui ha l'idea e il momento aurorale nasce proprio da questo fatto, che lui associa le prove nel tempo, la paleontologia, con le prove riguardanti lo spazio geografico, cioè prove riguardanti l'oggi, non il tempo antico. In particolare, diciamo, studia come gli animali e le piante sono distribuiti nello spazio geografico, quella che oggi si chiama biogeografia, una disciplina molto importante che poi viene fondata da Wallace, da Alfred Wallace, qualche anno dopo. Succede in un modo abbastanza casuale, anche qui vi racconto solo com'è avvenuto perché è abbastanza interessante, questa è la prima osservazione che fa di questo tipo, lui sta facendo una delle sue peregrinazioni appassionanti nella Pampas, Patagonica, e stanno andando da nord verso sud, lui ha lasciato Fitzroy in nave che sta facendo tutti i suoi rilievi sulle coste e scende verso sud invece a cavallo, accompagnato dai gauchos argentini, i quali lo accompagnano dappertutto, gli fanno vedere la costa, Baia Blanca, fossili, lo portano in giro, si diverte un sacco lui con i gauchos, cerca anche di imparare le loro tecniche di caccia con le bolas, con questo laccio lunghissimo e finisce malissimo perché mentre lo lancia si attorciglia, cade da cavallo dopo essersi attorcigliato, i gauchos gli dicono che forse non è il suo mestiere neanche quello di fare il gauchos avventuroso, poi cosa succede? Succede che a un certo punto spostandosi da nord a sud attraversano il rio Negro, che è un fiume, un bacino di grande rilievo e vanno verso sud, alla sera si fermano normalmente, fanno accampamento, quindi tende, si dormiva dove capitava, con i gauchos e come capitava di solito si mangiano gli animali cacciati durante il giorno, una piccola digressione gastronomica, è interessante, Darwin durante il viaggio si è mangiato per cena le prove più importanti dell'evoluzione, senza saperlo, nel senso che per cena si sono mangiati i nandù, le tartarughe, le iguane, carne bianca si diceva, io non l'ho mai provato, oggi è vietatissima, ma insomma carne bianca, succulenta, interessante, assomiglia al pollo ma un po' più grassa, tutte cose che lui dice durante il viaggio, se fate il conto di quello che si mangiavano per cena, sono tutte le prove fondamentali dell'evoluzione, anche in questo caso qua perché loro per cena mangiano nandù, nandù è una sorta di struzzo sudamericano, viene imparentato con quelli africani, ma è tutta un'altra storia e Darwin si accorge che dopo che hanno passato il fiume si mangiano dei nandù piccoli, molto più piccoli di quelli che si mangiavano quando stavano prima del fiume a nord, allora ingenuamente chiede al gaucho, dice ma perché dopo che abbiamo attraversato il fiume cacciate soltanto dei nandù cuccioli? E il gaucho dice no, cosa stai dicendo? Non sono cuccioli, è che dal fiume in giù sono tutti piccoli e aggiunge il gaucho, dal fiume in giù non ci sono mai forme intermedie, cioè dal fiume in su sono tutti grossi, dice il gaucho quasi stranito, è una cosa strana, dal fiume in su sono tutti grossi, dal fiume in giù tutti piccoli, non ci sono forme intermedie, questa cosa è una di quelle pulci nell'orecchio fondamentale, questa è una delle prove essenziali della teoria di evoluzione, è la prova biogeografica, cioè una barriera fisica, il fiume, che separa due popolazioni biologiche che si assomigliano chiaramente, ma che hanno delle differenze quantificabili, più piccole, differenze nel piumaggio, e allora a quel punto Darwin, che è un analitico, un grande osservatore, mette nel suo quadernetto tutte le caratteristiche del Nandù maggiore, come si chiama oggi, cioè quello che sta su, e del Nandù minore, che oggi si chiama Petis e ha preso proprio il nome di Darwin, perché si chiama Rea Darwini, quindi in suo onore si chiama così il Nandù piccolo, e fa tutta una serie di analogie tra le due popolazioni e capisce che il motivo per cui sono diversi è il fatto che hanno avuto un antenato comune e poi si sono diversificati a causa proprio della barriera geografica, c'è del fiume che li ha separati, non si accoppiano più gli uni con gli altri, perché il fiume li ha separati, sono diventati diversi, da una popolazione di partenza ne hai avute piano piano due, cioè hai avuto una ramificazione e questa è l'idea essenziale, perché poi cosa fa Darwin, qui il punto geniale suo, capisce che questa spiegazione, la ramificazione, è esattamente il motivo per cui il gliptodonte assomiglia agli armadilli attuali, perché il gliptodonte a quel punto capisce Darwin, è un antenato comune, vecchio, estinto, che poi prima di estinguersi si è ramificato, ha dato origine delle specie figlie e alcune di queste specie figlie sono gli armadilli che vedo oggi in giro per il mondo, anzi in Sud America, quindi capisce che c'è uno schema ramificato che spiega sia ciò che vedo nel tempo profondo, sia ciò che vedo in come sono distribuite oggi le specie biologiche. Ancora oggi la trirevoluzione è questo, è osservare la biodiversità attuale, l'oggi, con uno sguardo sul tempo profondo, cioè capire come c'è stata la filogenesi, come si chiama oggi, questo processo di ramificazione e di parentela universale di tutti i viventi, perché poi dietro questa scoperta c'è niente meno che l'idea che tutti gli organismi viventi sulla Terra sono imparentati tra di loro, basta andare indietro sufficientemente nel tempo e trovi un antenato comune tra due forme qualsiasi, compreso Homo sapiens, su questo torneremo fra poco. Piccolo spunto antropologico interessante, vado adesso per grandi tappe verso la seconda parte del viaggio e poi il ritorno e il secondo viaggio, siamo in terra del fuoco, quindi siamo nella punta meridionale del continente sudamericano, c'è un incontro, l'ennesimo incontro con popolazioni native, quindi con i selvaggi, gli indigeni come venivano chiamati a quel tempo, in particolare i fuegini, la cultura yamanaha, il termine corretto è quello, oggi estinti purtroppo, si sono estinti qualche decennio dopo la visita di Darwin, una bellissima popolazione, interessantissima, con una lingua tra l'altro molto particolare, molto raffinata molto ricca, di cui abbiamo conservato un dizionario di traduzione tra lo yamanaha e l'inglese, questa è una storia interessante perché è il momento in cui Darwin inizia tutta una serie di riflessioni di tipo antropologico, perché assiste in diretta a un esperimento antropologico alquanto bizzarro, che per gli occhi di oggi è davvero strano, ma che quel tempo era concepibile, cosa succede? Che Fitzroy nel viaggio precedente si era portato a casa quattro fuegini, con questa idea io li porto a Londra, li educo alla cultura occidentale, gli insegno a usare le posate, a radersi, a vestirsi, a parlare in inglese, ad avere una buona conversazione, li portano addirittura da un principe, li presentano proprio alla buona società inglese, vengono civilizzati, dice Fitzroy, li abbiamo civilizzati, li abbiamo portati nella civiltà, li abbiamo trasformati con l'idea molto paternalista, che volendo anche questi selvaggi, se li educhi bene da buoni inglesi, alla fine hanno volendo le capacità, nonostante siano dei selvaggi, di diventare delle persone per bene, usare il coltello, la forchetta come si deve, mangiare a tavola e non con le mani, non coprirsi di pelli di foca, ma essere come dire dei buoni inglesi. L'esperimento però non finisce qua, perché Fitzroy decide nel viaggio successivo di riportarli in terra del fuoco e insieme con un missionario di lasciarli, di rilasciarli lì, affinché insieme con un missionario fondino una missione e loro che hanno avuto l'esempio del buon britannico, del buono inglese, convincano tutti gli altri fuegini a trasformarsi, a civilizzarsi e a diventare dei buoni inglesi. Allora cosa succede? Sotto gli occhi attoniti di Darwin, questi poveri fuegini vengono riportati giù in terra del fuoco e vengono lasciati in posti diversi vicino ai villaggi dei fuegini. Il risultato è catastrofico perché alcuni di questi vengono subito uccisi dai loro ex compagni, uno soltanto riesce a sopravvivere per qualche mese, ma con grande scorno di Fitzroy, tornando dopo mesi, perché loro poi andavano avanti e indietro da quei posti diverse volte perché andavano alle Falkland e poi tornavano indietro, trova il fuegino che è tornato perfettamente alla sua vita selvaggio, ben contento di questo, torna sulla nave e dice dalla canoa, dice no ma io sto benissimo così, sono tornato alle mie vecchie abitudini, benissimo cacciare le fuoche, mangiare la carne cruda, mi piace così tanto. Fitzroy rimane scandalizzato, dice no, allora non sono redimibili questi selvaggi, Darwin invece fa delle osservazioni molto diverse, questo è interessante, dice no, qui di nuovo litigano, non si parlano poi per settimane, perché invece Darwin dice no, è sbagliato completamente l'interpretazione, perché tutta questa storia che cosa dimostra? Dimostra, primo, che probabilmente tutti i popoli della terra hanno qualcosa in comune, altrimenti non si spiega perché loro portati in Inghilterra diventano dei buoni inglesi, ottima osservazione, Darwin dice probabilmente tutte le cosiddette razze umane, come a quel tempo si chiamavano, discendono da un ceppo comune, un'idea interessante che poi si rivedrà assolutamente corretta, ma aggiunge ciascuna di queste poi in ambienti diversi, si adatta a contesti diversi e legittimamente continuano a fare la sua vita che è proporzionale ed è immersa in un contesto diverso dal nostro, quindi non ha nessun senso pensare che civilizzandoli poi tornano giù e trasformano tutti gli altri in buoni inglesi, quindi Darwin ha un'interpretazione molto più sofisticata, interessante sul piano antropologico di questa storia. A questo punto poi loro dalla terra del fuoco risalgono su lungo il Cile e arriviamo al momento culminante di questo viaggio che tutti conosciamo che è l'arrivo di Darwin alle Galapagos, siamo ormai verso la fine del viaggio perché siamo già nel 1935, nel settembre del 1935 arrivano le Galapagos che è il punto di rifornimento prima della grande attraversata del Pacifico e in questo arcipelago Darwin si ferma soltanto 5 settimane, quindi non è una permanenza particolarmente significativa, naturalmente osserva l'iguane, le grandi testugini delle isole, gli uccelli mimi, i fringuelli, insomma vanno su e giù in vari punti, alcune non le toccano nemmeno come Santa Cruz, Pinzon che pure invece sarebbero state straordinarie per le osservazioni che avrebbero potuto fare, si fermano sull'isola più grande che è l'isola di Isabela, poi vanno verso nord e alla fine un'isola, poi è stata chiamata anche proprio l'isola Darwin che è l'ultima più a nord, riprendono la strada verso il Pacifico. Anche qui spesso abbiamo raccontato di Darwin che arriva alle Galapagos e osserva questi animali, queste piante e capisce l'evoluzione. Assolutamente no, non c'è stata nessuna lampadina che si è illuminata alle Galapagos, però succedono delle cose interessanti perché qui Darwin può mettere alla prova una serie di indizi che aveva sviluppato durante le osservazioni precedenti, durante gli anni precedenti del viaggio, l'importanza delle isole per esempio, le isole sono molto importanti in Darwin perché sono dei momenti, dei luoghi di isolamento, dei luoghi che tendono, Darwin capisce, a produrre diversità perché da isola a isola hai delle storie evolutive differenti e la capirà poi, la selezione naturale può lavorare in modo diverso, le mutazioni, le variazioni possono produrre una grande diversità di forme viventi. Però ci sono prove abbastanza evidenti del fatto che Darwin osserva cose interessanti ma non ha una teoria in mano quando arriva alle Galapagos, per esempio un altro episodio curioso, sempre all'insegna della gastronomia e del fatto che si mangiavano le prove, di solito le Galapagos, i bucanieri riempivano le navi di tartarughe giganti perché sopravvivono tantissimo mangiando quasi niente e quindi erano un rifornimento di carne per settimane, poi le macellavano, se le mangiavano ed era carne buona che durava settimane per tutta la traversata. Quando sono in uno di questi porti a San Cristobal, Darwin nel pub incontra il governatore inglese delle isole e questo facendo lo sbruffone gli dice, ma lo sai che io, facciamo una scommessa, tu mi fai vedere una qualsiasi tartaruga gigante e io in 10 secondi ti so dire da quale isola viene, sai perché? Perché mi basta osservare il carapace, quindi tutta la protezione superiore e dalla forma specifica del carapace, io ti so dire da quale isola specifica delle 13 dell'arcipelago proviene. Lui vuole fare lo sbruffone, ma in realtà ha dato un altro indizio fondamentale a Darwin, perché Darwin capisce una tartaruga, una morfologia particolare per ciascuna isola, quindi morfologia specifica legata a ciascuna isola. Si rende conto che c'è una diversità di specie legata al modo con cui gli animali, in questo caso le grandi tartarughe, si sono distribuite sulle isole, però non ha ancora capito la teoria. C'è un altro indizio, per esempio, che abbiamo scoperto dalle note di viaggio, che è interessante, ve lo racconti in un attimo. Tutti abbiamo conosciuto la storia dei fringuelli di Darwin, impropriamente detti così perché Darwin non ha dato nessun contributo allo studio dei fringuelli delle Galapagos, li ha semplicemente osservati, descritti, ma non sono stati particolarmente significativi, lo saranno tempo dopo a posteriori, ma senza niente di che. Perché i fringuelli di Darwin dimostrano che Darwin quando è alle Galapagos non ha capito la sua teoria, non ha in mano la teoria? Perché lui cosa fa? Li raccoglie, ne raccoglie tanti diversi, da isole diverse, si accorge che sono morfologicamente diversi tra di loro, fa una serie di errori di attribuzione, per esempio è convinto che le differenze di più maggio siano dovute al fatto che sono maschi e femmine, cosa che invece non è vero perché in realtà sono due specie distinte, si accorge che i becchi sono diversi, però pensa che siano delle variazioni all'interno della stessa specie, insomma fa un gran confusione e soprattutto li mette tutti in una cassa, come faceva di solito, tutte le cose che lui raccoglieva, le metteva in queste grandi casse che poi di porto in porto spediva in Inghilterra. Il risultato è che quando lui torna dal viaggio si ritrova a casa, parentesi, non se ne è persa neanche una nelle poste inglesi, non so se la stessa cosa avrebbe funzionato con un grande naturalista italiano con le poste italiane, però non si perde neanche una cassa e se le ritrova tutte quando torna al viaggio a casa. Fra queste casse c'è anche quella dei fringuelli, ma noi abbiamo scoperto rianalizzando tutta questa storia, Darwin non ha segnato accanto al fringuello l'isola di provenienza, non ha detto questo l'ho preso a Isabella, questo l'ho preso a San Cristobal e questo è l'indizio chiaro per gli storici della scienza del fatto che non aveva capito la trilerevoluzione, perché se l'avesse capita la prima cosa da fare era segnare l'isola da dove aveva preso il particolare individuo in considerazione. Il fatto che non l'abbia segnato, lui uno così preciso, dimostra che non aveva capito qual era la vera prova da raccogliere in quel momento. Poi però succede una cosa molto interessante che voglio raccontarvi perché dice tanto di come funziona la scoperta scientifica. Quando torna lui dal viaggio, prende questa cassa dei fringuelli e la consegna al più importante specialista dell'epoca, al più importante ornitologo dell'epoca, che si chiamava John Gould, che non è imparentato col Gould che si citava prima. Gli la dà, Gould è un naturalista classico, creazionista, fissista, però è un grande specialista di fringuelli e di uccelli, quindi ha l'occhio tecnico. Darwin gli dà la cassa e dopo qualche settimana, siamo andati a vedere proprio nelle scritture private, nelle lettere private, Gould gli restituisce la cassa con l'interpretazione corretta. Gould invita Darwin al museo, al British Museum, la parte naturalistica e c'è questo incontro molto particolare perché Gould, questo esperto, dice, ma scusa, dov'è che sei stato tu? Dov'è che hai trovato questi fringuelli? Darwin gli spiega, sono state le Galapagos, 5 settimane, non mi ricordo più dove li ho raccolti, però insomma li ho raccolti nelle varie isole. E Gould dice, no, perché sai, mi hai portato a casa una cassa con dentro 13 specie di fringuelli diversi, dove diavolo sei stato? Dice, alle Galapagos, e quante isole ci sono alle Galapagos? 13. Ma ti sei segnato da dove li hai presi? No, bravo, fantastico, perché era l'unica cosa più importante da fare, no? Gould si ferma qua perché lui è uno specialista e non ha altro da aggiungere a questo, ma Darwin riflette su questa cosa che gli ha detto questo e capisce che cosa è successo alle Galapagos? Una popolazione di fringuelli è arrivata dal Sud America, ha colonizzato la prima isola, poi spostandosi di isola in isola si sono diversificati, hanno dato origine a una speciazione, a una radiazione adattativa, si dice tecnicamente, che è uno dei meccanismi adattativi evolutivi più importanti. La cosa interessante è che lui capisce questa cosa, non la dice a nessuno, non la dice a Gould e a tutti i suoi colleghi, la capisce, la scrive nei suoi tacquini e rimane segreta per più di vent'anni. Però questo è un episodio, potrei citarne molti altri, che mi fa capire una cosa molto importante della scoperta scientifica, cioè persino questa storia in cui c'è un singolo naturalista che fa la rivoluzione, perché poi lui capisce la rivoluzione che ha per le mani appena torna, persino questa storia non corrisponde al mito della scoperta scientifica, al mito romantico della scoperta scientifica per cui c'è un genio solitario che da solo capisce le cose. La rivoluzione scientifica di Darwin è avvenuta come un'impresa collettiva, cioè Darwin ha capito veramente quello che aveva osservato in giro per il mondo attraverso gli occhi degli altri, è attraverso gli occhi degli altri specialisti che si rende conto di quello che ha capito, che ha osservato in giro per il mondo. Quindi anche in questo caso la scoperta scientifica è un'impresa collettiva, non c'è l'Albert Einstein che da solo o il Charles Darwin che da solo capisce le cose, ma è un processo sociale. Il fatto è che poi però c'è una persona che riesce a formalizzare la rivoluzione, che riesce a capire il nocciolo del nuovo tipo di spiegazione che c'è dietro. A questo punto siamo arrivati all'ultima parte veloce del mio racconto perché c'è il secondo viaggio che dobbiamo raccontare un po'. Il fatto, lo citavo già prima, curioso della biografia di Darwin è che lui torna il 2 di ottobre, sbarca di nuovo a Falmouth in Inghilterra, torna è un uomo cambiato, il padre e le sorelle lo dicono, lo guardano negli occhi e dicono non sei più tu, sei un'altra persona. Il romanzo di formazione, almeno per la parte fisica e geografica, si è compiuto, è un altro uomo, ha tutta un'altra visione della natura, però non ha ancora in mano una teoria, non ha ancora in mano una spiegazione alternativa, però ci arriva subito dopo con quel processo che vi dicevo prima di costruzione sociale della conoscenza e fatto curioso, dopo aver viaggiato così tanto per 5 anni in giro per il mondo, il resto della sua esistenza lui lo passa praticamente chiuso nel suo studio, chiuso nella sua casa, nel Kent, chiuso a Down House, chiuso nella sua serra, chiuso nelle sue osservazioni, si muoverà pochissimo, andrà qualche volta a Londra per la fiera internazionale, qualche convegno, qualche incontro, ovviamente alle riunioni ufficiali delle società scientifiche più importanti, di cui diventa ben presto un leader, segretario della Geological Society, l'Inian Society, vince la medaglia d'oro della Royal Society, che è un po' il Nobel della scienza inglese, ben prima di pubblicare l'origine delle specie. Insomma, lui fa tutta la sua carriera come naturalista inglese di spicco, senza che nessuno sappia che lui è un evoluzionista, che lui ha in mano questa bomba, questa rivoluzione scottante. Prima vi dicevo, sulla Via del Ritorno, poche settimane prima di rientrare, lui fa una tappa in Sudafrica, a Città del Capo, viene a sapere che a Città del Capo è presente per alcuni mesi, per delle osservazioni astronomiche, John Herschel. John Herschel a quel tempo era un grande della scienza inglese, era un maestro famosissimo, era uno dei grandi top scientist inglesi e questo invece è un ragazzino, un naturalista di 25-26 anni, figurati cosa fa, cerca di prendere appuntamento con John Herschel, ci riesce e va a trovarlo a casa e c'è il racconto di questo incontro, questa casa bellissima a Città del Capo, tra questo giovanissimo naturalista in erba che nessuno conosce, ma che già ha un sacco di buone domande in testa, più che buone risposte, a quel momento aveva tante domande giuste in mente, è uno dei padri nobili della scienza inglese dei primi decenni dell'Ottocento. Nel dialogo tra i due, che abbiamo ricostruito dalle lettere private di entrambi, a un certo punto succede una cosa che succede normalmente in questi casi e che genera di solito delle situazioni imbarazzanti, perché Darwin gli chiede, senta ma con la sua visione che lei ha di tutta la scienza, ma che cosa ci resta da scoprire? Non fate mai questa domanda a uno scienziato, mi raccomando, perché il risultato è catastrofico, perché non si può prevedere che cosa resta da scoprire, vi non fatela perché lo mettete in imbarazzo. Herschel risponde, che è fantastico come gli risponde perché siamo nel 1835 e Herschel gli risponde, ma per quanto riguarda le dinamiche astronomiche del sistema solare e dell'universo direi che sappiamo quasi tutto. Notate che mancavano tre pianeti, mancavano circa tre quarti delle galassie, mai osservate prima, mancava la teoria capace di spiegare tutto questo, mancava tutto, secondo Herschel si trattava di pochi dettagli e ormai avevamo capito tutto del sistema solare, motivo per cui non bisogna mai chiedere queste cose agli scienziati. Per quanto riguarda l'astronomia direi che ormai è una disciplina quasi completa, ci sarà poco, qualche affinamento. Il bello, dice Herschel, è che dobbiamo ancora spiegare invece parecchio di come la vita si è trasformata sulla Terra e gli dice a Darwin il mistero dei misteri che ci attende, che deve essere svelato in futuro è come le specie si sono evolute su questo pianeta, come sono trasformate su questo pianeta. Darwin rimane molto colpito da questa frase perché in cuor suo, è dimostrato dalle lettere di quel periodo, è già convinto di poter avere in mano dei dati per poter rispondere al mistero dei misteri e da lì a due anni, soltanto due anni, nei tacquini privati a un certo punto lui fa un disegno, disegna l'albero della vita, capisce come avviene la trirevoluzione e aggiunge urrà il mistero dei misteri, nel senso che due anni dopo si rende conto che lui ha capito il mistero dei misteri, lui ha capito come si sono trasformate nel corso della storia le specie biologiche e se rileggete l'origine delle specie, il libro del 59, vedrete che la prima frase è per molti anni mi sono interrogato sul mistero dei misteri, non cita Herschel ma ha ancora in mente quel colloquio da ragazzo che ha avuto con John Herschel e la sua grande rivincita è lui, biologo, è stato capace davanti a un grande fisico che non aveva la risposta, perché Darwin per tutta la vita ha avuto questo rapporto un po' conflittuale con la fisica, diciamo, con una scienza hard, mentre la sua era considerata una scienza di serie B e invece dice urrà, io ho capito il mistero dei misteri. Negli anni successivi poi Darwin scrive il journal, quindi il suo diario di viaggio in giro per il mondo, a questo punto c'è una scissione biografica incredibile nella vita di Charles Darwin e qui inizia il secondo viaggio, che non è più un viaggio geografico, ma è tutto un viaggio mentale, drammatico, perché drammatico? Perché lui nelle settimane appena successive a rientro, nel 37, 38, sono i due anni cruciali, i due anni successivi a rientro, rimugina su tutto quello che ha osservato in giro per il mondo, fa quell'associazione tra lo spazio e il tempo di cui vi parlavo prima, capisce che tutto ciò che tiene insieme questo è il rapporto di antenato discendente, quindi il grande albero della vita e il 20 luglio del 1837, come fai a essere così preciso, perché lui era così preciso, tutte le volte che si segnava un'idea ci mette la data, il momento in cui l'ha avuta, in questi taccuini, lui aveva iniziato mesi prima i famosi taccuini della trasmutazione, che sono anche tra l'altro usciti nel 2008 in edizione parziale, tre di questi proprio per la terza nel 2008, lui in questi taccuini privati descrive tutte le sue idee mentre succedono ed è un documento eccezionale, rarissimo nella storia della scienza, perché vedi in presa diretta una rivoluzione scientifica mentre succede, raccontata da uno scienziato non a posteriori, che è sempre discutibile perché poi a posteriori lo scienziato addomestica un po' la storia come gli pare, no, qui la vedi mentre sta succedendo, quindi vedi gli errori, vedi i passi falsi, vedi i vicoli ciechi in cui si infila, vedi i momenti di grande eccitazione perché ha capito, vedi le analogie, i ponti che fa tra un fenomeno e l'altro, insomma vedi la mente di quest'uomo, questo naturalista non ancora trentenne, che arriva a capire, che fa la rivoluzione e la vedi dall'interno questa rivoluzione scientifica, mentre succede, perché di solito gli scienziati ce la raccontano dopo e ce la raccontano addomesticandola nel senso che poi col senno di poi lo stesso protagonista tende a rendere la storia più lineare, invece qua la vedi proprio mentre succede. Il 20 di luglio disegna questa pagina fantastica, avete, I think, io penso che e anziché descrivere a se stesso, perché poi questo è un taccuino privatissimo, segreto, che lui non condividerà nemmeno con la moglie Emma, fa un disegno che è il disegno dell'albero della vita, un antenato comune con dei rami che si dipartono, che si dividono, alcuni rami si interrompono perché la specie è stinta, altri invece proseguono, si diversificano ulteriormente e quindi come scrive lì sotto, la sua calligrafia pressoché incomprensibile, ma insomma ci sono voluti anni per ricostruire questi taccuini. Ho capito che tra A e B c'è un legame di parentela lontano perché hanno un antenato lontano nel tempo, invece B e C sono due animali molto più simili e tra l'altro fa l'esempio Homo sapiens e scimpanze, un esempio molto pericoloso, diciamo a quell'epoca, perché hanno un antenato comune più vicino etc., va avanti con tutte le sue riflessioni, ha capito la prima parte fondamentale della teoria dell'evoluzione che è appunto l'albero della vita, la grande immagine di una discendenza, di una parentela universale di tutti i viventi. L'albero del 1837 è come oggi nel 2015 descriviamo i rapporti tra tutti gli esseri viventi nella biodiversità, è lo stesso, è un grande albero, ancora oggi si chiama Tree of Life che è esattamente la metafora che Darwin usa nel 1837, quindi un'idea fortunata, un'idea di grande successo, un'idea che ancora oggi ispira il lavoro di migliaia di tutti i biologi evoluzionisti nel mondo. Un anno dopo, nel settembre del 38, sempre in questi taccuini, descrive la selezione naturale, cioè il meccanismo fondamentale che ancora oggi sappiamo essere al centro della spiegazione evoluzionistica, variazione, selezione, modificazione nel corso del tempo etc., etc., cioè durante il viaggio non ha in mano la teoria, ma appena torna in gran fretta si mette a compilare questi taccuini e nel giro di due anni ha in mano tutta l'architettura fondamentale della spiegazione evoluzionistica. E qua c'è il mistero finale, perché a questo punto Darwin prende una decisione radicale, nel 1941-1942 ha formalizzato la sua teoria, la sintetizza in un saggio segreto, il suo essè, il suo primo saggio, prima fa un draft e poi un altro essè, nel 1944 ha in casa il testo 200 cartelle che descrive la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Decide di tenerla completamente segreta, decide di non parlarne con nessuno e questo segreto resisterà, resisterà fino, sapete, al 1858, un sacco di tempo dopo. Darwin pubblica l'origine delle specie a 50 anni, quando ha fatto gran parte della sua carriera, dai 30 ai 50 anni e ha vinto, come dicevo prima, i suoi premi più prestigiosi. Pur di perdere tempo e di non tornare su queste idee, si dedica per 8 anni, 8 anni a studiare e scrive 4 monografie pazzesche, una enciclopedia dei cirripedi, cioè di questi piccoli barnacles in inglese, di questi piccoli, sembrano molluschi ma in realtà sono dei crostacei marini attaccati alle rocce, 8 anni, tant'è vero che addirittura ci sono dei figli che nascono quando lui sta studiando i cirripedi e cominciano ad andare a scuola, studiano ancora i cirripedi, a scuola gli chiedono cosa fa tuo padre? Beh, mio papà studia i cirripedi, nel senso che è, diciamo, l'attività fondamentale, è uno studioso dei cirripedi. Una cosa interessante, quando gli viene chiesto, perché tutti si interromano, perché proprio ti sei, hai deciso proprio per 8 anni solo sui cirripedi, perché dopo tante speculazioni, dice, che voleva dire la sua teoria che aveva in mente, ma che non può dire, dopo tante speculazioni volevo sapere tutto, ma proprio tutto, di un piccolo angolo della natura. Questo c'è molto di Darwin, perché Darwin, tutta la sua metodologia ha saputo spaziare tra la grande sintesi teorica e la capacità analitica, la capacità di fare un focus molto preciso su una parte circoscritta della natura. Ma perché, ultima questione, la tiene segreta questa idea? Qui non è facile rispondere, quindi vi dirò soltanto delle ipotesi. Solitamente si dice che Darwin abbia tenuto segrete queste idee per così tanto tempo, perché aveva paura delle gerarchie ecclesiastiche dell'epoca. Se leggete tutta la corrispondenza di quegli anni, non è così, non si vede questa cosa, andandola a verificare effettivamente. Darwin è abbastanza indifferente rispetto alle reazioni che ci sarebbero potute stare nell'establishment religioso, anglicano, della chiesa di Stato inglese. La sua preoccupazione sono le reazioni dei suoi colleghi scienziati, dei suoi colleghi naturalisti. Lui esce allo scoperto solo quando è sicuro di essere difeso, di poter fare una campagna di difesa dalle sue idee, perché è convinto nel 44 che la rivoluzione che lui ha capito sia ancora prematura, cioè che non sia ancora il tempo perché possa essere accettata dall'establishment scientifico dell'epoca. E allora sta zitto, sta nel segreto, lo scrive addirittura una sintesi, ci mette sopra una lettera e poi un sigillo e in quella lettera abbiamo scoperto che addirittura dice, come tra l'altro già Copernico, dice se state aprendo questo sigillo e avete aperto questa lettera vuol dire che io non ci sono più, scusatemi se non vi ho informato di queste mie idee, ma in realtà io sono convinto che, e spiega la trirevoluzione. Quindi si era già fatto il film di uscire allo scoperto postumo, cioè di uscire solo da morto, in realtà questa operazione non gli riesce perché poi sarà obbligato nel 58 a uscire allo scoperto per forza, perché un altro naturalista, molto tempo dopo di lui e indipendentemente da lui, era arrivato alle stesse conclusioni che Alfred Russell Wallace, che quando lui scrive quella famosa pagina sui taccuini era un ragazzino, era un adolescente, però non conosceva questa storia e arriva alle stesse conclusioni con un percorso autonomo e indipendente. A un certo punto nel 44 termina anche il secondo viaggio, quello mentale di Darwin che decide definitivamente di non pubblicare più le sue idee, c'è un suo amico, collega, Joseph Ucker, un grande botanico che poi diventerà il direttore dei Kew Gardens di Londra, al quale Darwin eccezionalmente confida un po' delle sue idee, a spizziche bocconi, tra l'altro è una cosa molto umana perché immaginatevi, voi siete scissi perché siete come uomo pubblico, non potete dire che siete un evoluzionista e fate tutta la vostra carriera scientifica senza fare menzione di tutto quello che avete capito e poi in privato lavorate a queste vostre idee, è ovvio che non ce la puoi fare no? E infatti Darwin nelle lettere ogni tanto si lascia scappare qualcosa per vedere l'effetto che fa, è molto bello nelle lettere vedere questa cosa, ogni tanto tipo quando vede che può fidarsi di qualcuno, magari sta parlando di tutt'altro poi dice poi sai cosa? Secondo me le specie sono un po' imparentate tra di loro perché secondo me le Galapagos e poi si ferma lì, non la dice mai tutta, però quando l'interlocutore è intelligente, Ucker a un certo punto dice ma cosa continui, fammi capire bene cos'è sta storia delle specie, cosa continui a fare degli accenni senza spiegarmi bene? E dice eh perché, allora a quel punto lui si sente fiducioso e comincia a raccontargli la cosa, egli confessa nel 44 in segreto nelle lettere, dice non dirlo a nessuno mi raccomando, ma sai secondo me alla fine degli sprazzi di luce sono venuti fuori e io sono quasi convinto, quasi molto contrariamente all'opinione con la quale ero partito, Pelei, Cambridge, che le specie non sono immutabili, ma è come per me confessare un assassinio. A questo punto Ucker che è una persona curiosa dice ma scusa cos'è tutta sta tragedia? E soprattutto dimmi qual è l'assassinato, chi è l'assassinato? Nella lettera dopo Dalmi dice beh l'assassinato è che se ho capito bene il meccanismo e lui ha in mente la selezione naturale, non c'è nessun disegno provvidenziale nella natura, non c'è nessuna finalità intrinseca nella natura, non c'è nessun progettista, non c'è nessuna grande provvidenza che si esplica nella natura, ma la natura è un processo che avviene attraverso una meccanica dovuta alla variazione spontanea, casuale, ai cambiamenti ambientali, anche questi casuali, contingenti ed è una storia senza direzione, è una esplorazione di possibilità. Ma questo, dire questo adesso, 1844, è per me e per tutti noi come confessare un assassino, come confessare un delitto, quindi non pubblicherò mai le mie idee. E quindi vedete che questa bellissima storia, secondo me, di un viaggio in giro per il mondo e poi di un viaggio mentale, si conclude con un piccolo dramma, cioè la decisione di tenere completamente segrete queste idee.